Benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere un kit per l'irrigazione, un kit da 100 metri quadri della Di Giuglio. Questo kit è un kit con l'ala gocciolante, in questo caso è un passo 20, cioè la distanza gocciatoia 20 e consumo 2 litri d'ora gocciolante. E' un 16 come misura dell'ala gocciolante. Allora, il kit comprende 100 metri di ala gocciolante, il filtro, 2 niplo, 1 pollice pollice e 1 con la riduzione a 3 quarti, un attacco per il rubinetto sia da 3 quarti che svitando può diventare da pollice e l'attacco rapido del tubo. Poi, 20 metri di tubo del 20 e 10 T con 10 rubinetti, 10 tappi e 10 ferma tubo. Questo è il kit standard che quando acquistate vi arriva questo. Poi, il kit può essere personalizzato in base all'ecisenza, si può automatizzare con una semplice centralina. Adesso questa qua è una centralina da rubinetto della Rain, la Zero Pressure, questa qua, che poi vi mostrerò in un video a parte. Per montare il tutto è molto semplice e vi mostrerò parte per parte tutti i vari pezzi. Altra possibilità, se avete pressioni molto elevate, è il riduttore di pressione che può essere messo dopo la centralina o prima della centralina. L'importante è che sia dopo il filtro. Il filtro ha il suo senso per essere montato e dovete aggiungere, se comprate la centralina dovete aggiungere un diplo, maschio maschio, perché la centralina ha l'attacco questa, in questo caso, ha l'attacco da tre quarti e il filtro invece da pollice. Quindi, una volta fatto il compratutto, vi arriverà a casa questo, senza la centralina riduzione diplo, che basta per 100 metri quadri. Vediamo adesso direttamente sul nostro rubinetto il montaggio di tutti i pezzi. Allora, partiamo con la nipo, femmina-femmina e andiamo a avvitare. Poi abbiamo il nostro filtro, entrata-uscita, andiamo a mettere così, seguendo la freccia. Mi raccomando. Ok, poi, dopo il filtro, la nostra riduzione. No, pollice a tre quarti. Vi ricordo di stringere molto. Il nostro nipo tre quarti, tre quarti maschio. Dopo andrò a stringerlo bene. Poi abbiamo centralina. Anche questa, poi, andiamo a stringerla. L'ivitiamo qua sotto. Mettiamo il riduttore. Ok. Una possibilità è montarlo così e collegarlo in questo modo, direttamente. Oppure, una possibilità diversa, più, diciamo, personalizzata e un po' più sicura, è evitare questo e usare questo raccordo. Non so, poi, io andrò a stringere meglio. E il nostro tubo andremo a collegarlo qua sotto, che è un attacco a pressione. Così è il nostro tubo che vi mostro, come si fa. Ho già montato il pezzo, vi faccio vedere come va collegato col tubo, alla fine. Allora, frittiamo il secondo questo. Andiamo a invitarlo qua sopra. Questo poi lo restringere meglio. E poi andiamo a invitarlo sotto la centralina. Questo è il risultato finale con l'attacco diverso. Adesso abbiamo posizionato il nostro tubo che arriva dalla centralina. Abbiamo aggiunto una curva, che non ci serviva. Abbiamo messo il primo rubinetto, che andrà nell'aiuola con le frangole, dalla gnocciolante. Adesso partiamo con invece l'aiuola con tutte le verdure. Abbiamo fatto la prima misura qua, in cui andiamo a inserire il T. Adesso lo facciamo, abbiamo posizionato, faccio la misura e taglio il tubo. Allora, non posizionarlo. Ok, misura 37. Adesso il tubo l'ho già pretagliato. Andremo a inserirlo qua. E poi faccio la stessa cosa per tutte le altre aiuole. Metto due linee, in modo tale che se una non funziona, cioè non mi serve, la chiedo e non consumo acqua. Mendozo solo una. E stessa cosa nelle altre aiuole. La misura, ad esempio, ho fatto la misura da questo T alla prossima aiuola, che ho già pretagliato e che andrò a inserire e collegare. Adesso le collego tutte e poi vi mostro. Ora abbiamo fatto la misura nell'aiuola, l'ho già pretagliato, ho fatto la misura a un metro e posso infilarlo nel rubinetto semplicemente a pressione. Ok, fatto. Ora lo stendo e lo fisso in fondo con il suo picchettino. Ecco qua il nostro impianto fatto. Adesso procediamo con tutti gli altri aiuole e poi ve lo farò vedere finito in funzione. Grazie. Grazie. Grazie.